ecco qua guardate chi abita qui nei dintorni dice che quest'acqua scorre da mesi più avanti c'è la sorpresa guardate questo video lo sto girando io autonomamente e senza essere candidato come vedete guardate cumuli guardate poc'anzi è passata una moto ecco sta subito aggiungendo un altro veicolo eccolo qui adesso più avanti vi farò vedere qualcos'altro